Wild Boys, welcome back! Oggi voglio parlarvi della blockchain di Venom e della possibilità di ottenere un airdrop molto interessante completando alcune task sulla sua test net. Allora, innanzitutto la blockchain di Venom è basata ad Abu Dhabi ed ha investito più di un miliardo proprio per il Web3 e per sviluppare la sua blockchain. Come si può anche notare guardando il White Paper, praticamente hanno allocato il 22% dei token per la community, quindi come airdrop. Certo ci sarà anche un unlock con un cliff, probabilmente non verranno elargiti tutti in una volta, però c'è la possibilità di ottenere una grande quota, fetta di questi token partecipando appunto, compiendo le task sulla sua test net. Allora, partendo dal sito principale, Venom Foundation, quali sono i passi che dovremmo fare? Innanzitutto, la prima cosa che andrà fatta è cliccare su test net, che troviamo qui proprio in grande, vi separerà questa pagina e la prima cosa poi che dovrete fare è installare il wallet di Venom a seconda se avete una versione per telefono oppure una versione per PC dovrete aggiungerlo al vostro Chrome oppure nel mio caso a Brave Browser dopodiché vi separerà, dovrete inserire le 12 parole, copiare le 12 parole, inserirle nel wallet mettere una password, salvare chiaramente tutto quanto ora io l'ho già installato, vedete che ho qui l'estensione Venom e ho ricevuto già poi dei token Venom qui chiaramente è ancora tutto in test net, quindi non hanno nessun valore servono però per completare le task che andremo a vedere ora e poi ricevere il seguente, essere leggibili poi potenzialmente per l'air drop allora innanzitutto premessa, per completare poi le task che avremo appunto cliccando qui appunto su start test net ora appunto ci porta alla pagina della test net dove avremo la possibilità di ottenere questi NFT appunto compiendo alcune task ora me ne rimane ancora una qui da compiere poi ce ne saranno altre che mi verranno sbloccate nelle prossime settimane questa che devo compiere è quella del bridge e praticamente quando voi dovete compiere la task dovete cliccare su qui complete task e poi ci sono due o tre passaggi da fare ogni volta per esempio innanzitutto in questo caso dovete unirvi al loro telegram il canale telegram poi per esempio in questo caso bisognerà trasferire dei token dalla Venom a delle chain ethereum virtual machine compatibile e viceversa però dovete cliccare su questa freccia e vi apre il link che è necessario poi per compiere la task in questo caso dovete collegare il vostro wallet per esempio inviare da binance machine alla venom test net dei token quindi dovete collegare anche la vostra wallet ethereum virtual machine compatibile ora in questo caso io questa task non l'ho ancora fatta perché voglio crearmi un nuovo account metamask apposta proprio per svolgere queste task degli airdrop quindi siccome non l'ho ancora fatto ma adesso per lo scopo di questo video io vorrei segnalare un pochettino la procedura quindi questa task nello particolare non l'ho ancora fatta la farò poi nel seguito mentre le altre task che servivano per ottenere questi 8 nft praticamente erano in un caso bisognava per esempio fare uno swap sul loro DEX della test net da alcuni token a un qualunque altro token per esempio USDT oppure altri che vengono proposti per una qualunque cifra fate una cifra di piccolo importo perché vi serviranno questi venon poi per completare le varie task tra l'altro una delle task sarà quella di acquistare sul marketplace di Numi con un NFT per quello ho dovuto acquistare 5 numi che mi sono servite in una di queste task per acquistare questa collezione questo collectible con un punto per 5 numi questa era una delle task oppure un'altra era sul marketplace di Oasis di acquistare un NFT anche qui costano a partire da 4-5 Venom e poi dovete anche metterlo dopo che l'avete acquistato lo dovete anche mettere in vendita io ho acquistato questo NFT Bubble Modes e ora l'ho anche messo in vendita sempre per 5 Venom questa era una delle task un'altra era di mettere in stake i vostri Venom e quindi dovete anche qui inserire una cifra anche qui mettete una cifra piccola di Venom io ho messo 5 Venom in stake approvate poi sempre sul vostro wallet e appunto queste erano le varie task che vi servivano poi man mano per ricevere questi NFT andrà quasi sempre anche twittato quello che dovrete fare io per questo ho creato per evitare di spammare sul mio account principale twitter tutte queste operazioni che sto facendo con l'unico fine di ottenere un airdrop se voi aprite nelle impostazioni della vostra pagina browser potete creare un nuovo profilo cliccate qua create nuovo profilo browser io appunto ne ho creato uno apposto che mi serve solo per navigare appunto in internet su questi airdrop mi sono creato un nuovo profilo twitter e che mi serve solo per rituitare appunto questi airdrop poi nella finestra qua del browser potete passare dal vostro account principale di navigazione che è questo che utilizzo io normalmente all'altro che ho chiamato airdrop che mi serve tra virgolette un po' per navigare come fosse un po' in incognito ma per andare ogni volta a rituitare oppure a registrarmi come serviva per completare la task di Numi occorreva anche registrarsi con un'email in questo caso non andate a dare il vostro email ma su Google se voi cliccate tempmail il primo link .temp-mail.org vi genera un indirizzo email temporaneo che vi servirà soltanto per registrarvi per esempio alle varie task che dovete completare e poi così non riceverete tutto lo spam e anche proprio per motivi di privacy ecco punto quindi le raccomandazioni quando andate a fare queste airdrop createvi un nuovo profilo createvi una cartella mail temporanea createvi un nuovo account Metamask come detto Venom può essere veramente un potrebbe potrebbe veramente generare un'erotropa molto interessante più di un miliardo di dollari investiti per la community il 22% sul loro sito principale appunto cliccate su testnet e una volta che avete scaricato il wallet andate a completare le varie task per ricevere gli NFT poi se vi servono altri token cliccate su get testnet c'è una daily task ogni due ore qualcosa due ore e mezza circa c'è una domanda da rispondere se rispondete correttamente ricevete 5 testnet Venom oppure se vi fate login sul loro discord oppure sulla discord della Venom Foundation o del Venom Pad ricevete anche qui dei test dei token come dei fauciet dei test per appunto poi vi servono magari per completare le varie task ecco questo era più o meno tutto per l'aggiornamento su Venom sugli airdrop come detto spero che abbiate apprezzato potrebbe veramente nascere un airdrop interessante ricordo anche la possibilità di mintare entro il 16 giugno l'NFT celebrativo di optimism di bedrock su optimism anche qui per essere possibilmente elegibili a un airdrop sto cercando anche di tenervi aggiornati sugli airdrop più interessanti tra l'altro a proposito di airdrop c'è una community un canale telegram sugli airdrop che da cui anche prendo spunto e se mi seguite sulla nostra community telegram dei wild boys che trovate tutti i link in descrizione poi vi mando tutte le informazioni questo è tutto per il video come al solito se l'avete apprezzato vi ringrazio se mi mettete un like condividete e mi aiutate a far crescere il canale un like Grazie.